Formula 1 chiama, Davide Valsecchi risponde. Il pilota comasco, campione del mondo della GP2 nel 2012, è vicino al grande salto nell'olimpo dell'automobilismo. Pochi giorni fa ha provato la Lotus di Kimi Raikkonen nei rookie test di Abu Dhabi sul circuito di Yas Marina e ha fatto segnare il miglior tempo. Sa bene che quel risultato è pesante, Davide venerdì scorso passeggiava tra i box del rally di Como e al microfono di ETV, ha confermato di essere pronto per il grande passo. Quest'anno ho avuto la fortuna di correre in GP2 con un team vincente e abbiamo vinto il campionato. Ho avuto l'onore di guidare per Lotus che aveva appena vinto la gara con Raikkonen nei test e abbiamo fatto benissimo i test, ora dobbiamo avere la fortuna di entrare e sono sicuro che non deluderò. Valsecchi ancora non può sbilanciarsi ma è evidentemente che i suoi manager stanno già trattati con il sito della Formula 1. C'è già qualche contatto con qualche team? Sì, sono cose però che ne so io quanto te perché io faccio il pilota e porto manetta alla macchina, ho tentato di portare al limite, poi ci sono i manager che fanno il resto, io spero che mi diano un'occasione vera perché è l'occasione della mia vita, sono nel momento giusto, bisogna sfruttarlo, spero che i manager la considereranno l'occasione della loro vita anche per loro e tutti nella stessa direzione, lavoreremo per entrare in Formula 1, vediamo, speriamo bene.